Siamo con Erika Priori e Alice Moroni del Cattid a pochi minuti dalla partenza della caccia al tesoro georeferenziata The Way. Come funziona? Allora The Way è una caccia al tesoro multipiattaforma che può essere giocata sui social network location based come GoWalla e Foursquare. Su queste piattaforme verranno distribuiti gli enigmi che i giocatori in squadre da massimo 4 componenti dovranno risolvere per avanzare all'interno del percorso che porta metaforicamente verso la conoscenza. Oltre a dover risolvere gli enigmi nel momento in cui arrivano nel posto di destinazione devono fotografare un QR code cioè un codice bidimensionale con il proprio smartphone e ricevere in questo modo uno dei simboli che gli permetterà poi di acquisire la conoscenza e arrivare alla meta finale. Erika come mi è venuto in mente di fare una caccia al tesoro? Insomma così social? Allora in realtà tutto è iniziato un po' da Milano quando abbiamo partecipato alla precedente edizione della Social Media Week e abbiamo partecipato a due giochi molto simili in realtà e ci siamo divertite talmente tanto che abbiamo detto come la Social Media Week arriva a Roma vogliamo ripetere questa esperienza. Tutto si chiude anche con una ragazza che lavora in laboratorio con noi e che di fatto ha portato quali tesi di laurea lo studio di come questi giochi possano essere poi un elemento di socializzazione e quindi abbiamo pensato di unire l'utile al dilettevole e quindi associare la tesi di laurea di questa nostra collega insieme a questa esperienza che già avevamo vissuto. E chi arriva prima? Chi arriva prima riceverà una sorpresa. Per tutti però c'è l'aperitivo social anche per chi arriva dopo. Grazie mille.